Vai, una mamma non sta cazzata di anni di rassegno Va, poi puoi vedere Per praticamente 100k che me pio Schivare questa raffica di colpi Radia, grazie per gli 11 e vento No, no, ma mu Vediamo proprio uno di tre anni di rassegno, vai Sì, sì Ah Un titi Un titi Io giocherò sicuramente un titi, vero? Io un titi gli do la 10 O metto un campo un titi Secondo voi Piedermiano che buttamo dentro a Ramos Ma vaffanculo De un titi Sule Sì, ho capito, ma mo sule Ma che cazzo c'è di fa, grazie e benvenuto Ramos è da Se mi dici, potevi beccare pure quelli di mo Mi dici, mi dava Ramos, mi faceva risparmiare Ci provavo, ma con questi che cazzo c'è devi fare Dei PR90 o butti nel builder Giochi con Daka? Per me Varane non lo può dare perché dice fine ai Toti Ma per me si intende prima della promo dei Toti Bernardo, 90 Se fiona nel B E per me era SBC, Daka Degli swap Grande Viper Che mi dici di bello? Che mi racconti? Uno di tre anni rassegna, vai E che cazzo c'è dovresti fa, gufufana? Fammi capire A marzo Ma non capisco il senso dell'SBC in sé Proprio in un'analogica Sono tutte carte passate Ma passate invecchiate Invecchiate male Sancho toccherebbe trovare modo di metterlo Perché secondo me è veramente Nait Lo voglio nella squadra Lo voglio Però alla sinistra chi cazzo m'è? Sennò 4, 3, 2, 1 Bella stream Io poi la guardo Mannaga Murenkunku Mi sembrano veramente ottimi Ti posso dire Ottimi E beh Bernardo Silva Che te dirò Costa 90.000 Bernardo un 90 Paghi sui 50 55 Ci perdi però almeno Confermo Se morì Bernardo Ma stai allo stadio già Te dirò Costa secondo me Ancora può giocare Certo Sono uscito in miar De mezzo De carte Però Questo è buono Sì ma Che Che Cioè che Che gli evo fa Che gli evo di Puttasca Pio PSN È per solito Yoshimi ZU 93 C'è Leva Ferdinand Prime Per mettere Varane No è più forte Ovviamente Ferdinand Però Boh E Ramos De suo In genere Abbastanza Buggato E a me piace Un sacco L'anno scorso Regà Il Toti Aveva quella Velocità E se giocavano I terzini Difensori Centrali Perché erano Lenti Per me Il Toti Era uno Dei Carte Uno dei Difensori Pi' Forti Del gioco C'era pure Imprezza Abbastanza Abbordabile Quindi Boh Onestamente Galeno Ma tu te rendi Conto Te dà Galeno Ma che Cazzo C'è Fai Con Galeno Garrin Challan La squadra Ne è male Unque Bella La squadra Ti metti Bagna Se spina Fatto Tu Mica E 10 In line No Ma non Non c'è Proprio L'audio Guarda Questo Registra Quindi Dovrei Mutare Ogni Due Secondi Non è Non è Quello Il problema Cioè Non è Che Insomma Allora 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 Apriamo Troveremo Uno Buono Per quanto Davis Ancora Fa mezzo Il suo Banzamber Coglione Cari In corsa E Muriel L'anno scorso Mi era piaciuto Tante live Questo Mi fa Cagare Ma che Pretendi Non Non ci stanno Ma proprio Vedi il pool Dei giocatori Fanno tutti Cagare Ce ne stanno Due che Se salvano Oh Ronaldo 92 Dici Boro Già Posseduto Onestamente Riprenderai Ronaldo Per buttarlo In un Builder Stop Solo Quello Farei 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 Quella Giocata Lì O Buttino Un Builder 92 Arrivederci E Grazie Anche Perché Pulisi Scenze Regge In piedi In Cun Cubot Ma Ancora Mezzo Può Gioca Però O Di Incastrata Ah Cliccate Se volete Partecipare Non è Gratis Cliccate Potete Vincere Ma con Ramos Lo fai Live Sì Forse È il momento Ah Vedi Questo Finalmente È uscito Una carta Che Cambia Questo È l'unico Che Dici Poi Vale Quello Che Lo Vai A Pagare Nel Siamo Avrà L'headliner Nel Club Sicuramente Non Scambiabile Vedrai Che Che Meraviglia De Gioco Pare De No Te Dirò No Pare Pare De No Tutte Le Sbc Uscite Fino Ai Tutti Che Insomma Parte 90k Per Browards Aller O One Mi Baran Baran C'è Un No Boh Non 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 so Se è Prima Dei Dodi O Dopi Dodi Quindi Alla fine Art Hanno scritto Il supporto Hanno rifondato Comunque Non serve A niente Beh Buono No Ramos Ho De Sali Prima Infatti Ramos Però 10 minuti De De Mott Ti No Si C'è Staca Scartato Ma Ma E' Presa Per C'è Per Quanto Per Quanto Mi Riguardo C'è Che è 20 Zero Devi Fa 11 8 9 Allora Lì Passi a Troare Qualcosa Ancunque Darmiani Ziac Beh Calcolando Che i giocatori Tercelzi Probabilmente Mi fanno Più In Sbc Da Quello Che Dicevano Ziac Potrebbe S Ma Di Lorenzo Mi è Sembrato Cambian Cazzo Perché 10 Vorto Ma Poteva Scrivere Io Ho Visto Il Swap Si Chiamato Sumiyoshi Vabbè Zane E' Male Simo Grazie Peiotto Bentornato Vabbè Simpatico Dai Questo Mezzo So Mezzo Male Mezzo Manco Male Te posso Dere Bellingham Ovvero Il nome Bellingham Fenomeno L'unica Rottura Dei cazzi E' L'incallo Ovviamente Ah E' Vero C'è Cante Flashback Immaginavo Carly Grazie Bezzo Sono contento Non aver Comprato Un cazzo A giocare Del ring Sti Cazzi Ci Mettevo Du Sera Collamme Tutto Quanto Come Che ha Vabbè Vi è sto Cante Manna L'Hark Club Vabbè Vabbè Vini giustone Adesso Dai Ce sa Ce sa Comunque Io Varan Non lo Non lo Sto Vede Manco Per sbaglio Quindi Non Non mi pare Proprio Che Secondo me Non si può Proprio Trovare No Ma Sule C'è Deve Stas L'unico Dubbo E Baranne Pur Vero Che è Il Più Forte In Assoluto Questo è Fino Ai Toti C'è Pichè Quindi C'è Pure Sule Abba Me Young Boh Abba Povero Pichè Ma Quando Cazzo Giochi Costava 600 Mila Quello Quello Sbc Ti ha detto Culo Ti ha detto Mamma mia Che culo Che c'hai Eh no 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 Benzema Stani Pacchi Che ha scritto Degli Eh non Non lo leggo Non lo so Pacheta Solo Trovo Sennò Insomma Ragazzi Bella Cagata Pure Questo Beh Questo Orribile E Worker Tentorio È un Bot Offensivo Quei Ramos Quindi Che bello Che fortunato Che sei Mamma mia Vabbè Pincuncu Che è tutto Sommato Ancora Poggi Forse Comunque Volevo Ma Sto Sancione Tocca Viallo Problema È che Penso Penso Ma Pot Ma Che culo Vabbè Ber 91 So 65k Sbc Ci sta La fine Si sfrutta Quello Si sfrutta Lui Sera Sparati Due Con Vediamo se Verrà Premiato Vuoi Piché O Pato Quello Che te Pari Vado Sempre Poverol Fa un po' Te Pia Pato Vai Vediamo Il secondo Campione O Vabbè Alfonso Davis Mi sembra Mezzo Ok Anche Perché L'art Di Due Veramente Brutti Eh Io Avila 5-5 Toccherebbe Capito Conve ne Fa sta Cagata No Assolutamente No Grazie Bizz Buono Morata Enaki E Nakamura Ah Però Che Meraviglia Che Giocatori Che ha Fatto Ha recuperato Una Palla Ha fatto Una Cosa Fatta Bene Ha Andato Dritto Per Dritto Ha Prato A Tirare Con L'uomo Da Deficienti Ma Che Culo Blablabla Vai Apri Eh Sì S'ha Fatto Dove 19 Ritare Anni Fod Buono Mamma Mamma Sto Pagata Che Stampelle Politano Che Darmian Che Dopia Che Piamo Darmian Benze Mamma Mia Benze Ma Flashback No Io Vede Odio Un Anno Un anno Di Tre Rassegna Vai 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 Caccia La Bomba Ah Bombampetto Guarda Che Cagata Te Picca Pure Questo Edward Ma Poi Record Breaker Hanno Detto Ne Famo Scì Uno Ogni Scì Du Record Uno Quanti Ne Sì Due In Naki Ma Vaffanculo Per i risultati utili Una sconfitta Prima Derbiato IFA Pulisisce Debo E Sule Vabbè Sule Non è male È onesto Buono 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 Registrazione Ma Pulisisce Ma come Pulisisce Ma Veramente Gli ha dato Tu Pulisisce Nello stesso Nello stesso Droppa Sabbi Secca Troppa Parego 88 Porterei A casa Grande Parego Te Ma io volevo Mettere Siri Guarfanta Ero Convinto Pichè O Culibaly Pichè Non è male Ma A te Di roba Buono Il pareggiamo Ripresa Buono 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 Se butta Ancazzo Sì Chi c'è di bello Qui Brandt Keita E Davis Ma ti dirò Davis Mi sembra L'unico Che effettivamente Non è male Eh Adà Ce n'è Tanto 7 Al Fanta Partire Sacrificio 7 Gol Decisivo Lo sai Tu arzano Se segni Ci sa Buono Grazie.